Abbiamo fatto delle ricerche sul tuo conto, Sally, e i conti non tornano. Che vuol dire, tenente? Non credo che Duvold abbia sparato Johnson. Ma non capisco, io ero lì quando è successo. Secondo me sei tu che hai preso i soldi per pagare il conto del dentista. Oh, capitano Drabby, non dica così, non è più. Era solo questione di tempo e tu lo sapevi, Sally. Prima o poi avremo scoperto il tuo giochetto. Ma questo è possibile? Io non ho mai fatto in vita mia una cosa così addosso. Sì, esatto. Sally Decker non ha precedenti. Ma Sally una volta si faceva chiamare Babes e Caltrain, una famosa contrabbandiera di armi di Memphis. La sola differenza è che Babes aveva i capelli rossi. E prima era una brunetta dal grilletto facile di nome Zazzo Pizzi. E prima ancora si spacciava addirittura per Aretha Franklin. E va bene, Frank, ma le tue ricerche hanno rivelato che sono stata anche arruolata nel corpo dei Marines ed ero una delle più brave. Grazie a tutti.